Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi grandissimo ritorno con la quinta puntata di Piante contro zombie, d'accordo possiamo iniziare iniziamo con questo, questo è tra di sicuro, poi non so cosa scegliere, però scelgo questo ragazzi nell'urta degli zombie ci mettono un sacco di zombie e quindi meglio mettere qualcosa che ci dà massa, va bene ragazzi stiamo per iniziare la nostra prima partita dopo mesi e mesi, magari anche un anno, sarà un annetto che non faccio un video di piante contro zombie tantissimo ragazzi, ammettere che mi sta piacendo, prima ovviamente anche prima mi piaceva d'accordo ragazzi iniziamo, dobbiamo schierare tutto e ora devo capire da dove viene qua 2 ne sono venuti ragazzi, c'è un piccolo problema, ne sono venuti due al posto di uno, cavolo se non mi muovete insomma, cioè girasoli dai vi prego vi prego vi prego, siete due, me ne servono due, uno, due, tre, si, dai, vai, 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 così come mi prende in giro questo gioco su dai non è possibile, su vai, 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 così andate dai per favore, per favore, per favore, dai che vuoi, no, dai ragazzi non è possibile però dobbiamo essere veloci e forti, voi esclusi, allora aspetto a metterli, magari riesce qualcuno, ragazzi sono due orde e questo potrebbe essere un problema, sono due orde, quindi questo può essere un grandissimo problema, quindi dobbiamo racimolare un bel po' di soli perché tra poco arriva l'orda finale, cioè l'orda finale, l'orda di zombie e arriva a 250 perché 150 li tengo per la cherry bomb eccolo eccoli eccoli là 3, 2, 1, 3, 2, 1, boom ragazzi all'orda finale è stato uno schifo per loro, per me no oh no, 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 dai, non arrivare a 175 dai, arriva a 175, ragazzi, per forza, ci devo arrivare per forza perché devo fermare lui madonna, muovetevi, 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 datemi un sole, uno solo, dai per favore, ecco, vai, si, 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 vai così ce lo stiamo facendo mi sa che me lo mangia questo qua, muore adesso, non è morto, non è morto, non è morto eh, pure quello ci voleva, non ce lo faranno mai vai, ti prego, ti prego, vai, vai, non morire, non morire, si, no che seccatura che siete per voi vai, 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 però dai, ti prego, due me ne mancano qualcuno, dai, no, non è possibile eccolo, eccolo, qua, 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 vai, vai, si, così, bravo, no, no cavolo, ragazzi, siamo a 6 minuti ed abbiamo fatto un solo livello, eh ragazzi, 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 stiamo messi malissimo stiamo messi leggermente male diciamo molto, perché non ho cose da mettergli cavolo vai 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 adesso vai così dai 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 sì 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 questo vi ho salvati ho salvato tutte queste piante devo arrivare a 175 muoversi muovetevi più veloci raga tre soli mi mancano uno uno solo sì sì vai vai ragazzi non siamo pronti per niente con due ce la stiamo battendo con due girasoli ragazzi due girasoli oh non lo mangio non lo mangio non lo mangio ah non l'ha mangiato meno male meno male no ragazzi siamo pronti siamo pronti ancora due ancora due 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 uno uno solo un solo fiore manca un fiore manca dai dai su eccolo eccolo boom ho vinto e raga questa puntata ci abbiamo messo sette minuti per un solo livello ragazzi perché questo livello mi sa che dura un cos'è raga che cos'era ciao ciao noi vogliamo mangiare noi mangiare hello we are about to lunch and I'll out attack on your house sincerely the zombie credo di aver capito che gli zombie mi attaccheranno per mangiare mio cervello e attaccheranno casa mia sinceramente gli zombie eh se allora siamo a posto ragazzi siamo veramente a posto se dobbiamo fare così partiamo male perché questo non mi serve quindi andiamo così questo ragazzi nell'ultimo livello non l'ho provato no ancora no no ma dai ma tutte cose inutili mi date si vai finalmente la cosa più utile che potevano darmi me l'hanno data no 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 è vero adesso state esagerando e ragazzi stiamo andando benissimo questo e la quanti quanta roba utile quanta roba utile due robe utili che inizia a farsi un po' difficile ragazzi stiamo già piantando un botto di piante e la e quanti siete tutti qua poi quelli la sono ok ragazzi calmi 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 ah vabbè sono loro due a questo punto cioè no 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 si vai vai che quello muore subito quattro colpi alla volta vai sono forte io sono forte ragazzi ragazzi mi si sta riempendo tutto di cose inutili ok ok ragazzi è tutto pieno di cose inutili per adesso di cose inutili via pure questo ecco qua così almeno eh ma quanti siete cosa siete cioè se non ce la faccio così cioè no raga è impossibile cioè vabbè è impossibile ce la sto facendo quindi non è proprio impossibile mi sto mettendo completamente a casa ma non metto queste piante inutili dai qua un altro niente un altro eh quanti siete cioè cosa siete cioè l'orda di zombie sì l'orda di zombie sono ok così bravo questo via e mi sa che qua qualcuno ci muore eh tipo loro che mente malata qua vai così ragazzi abbiamo chiuso qua abbiamo chiuso tutto ora un'altra fila di piante e poi è tutto chiudo ragazzi e poi hanno perso tutto oh madonna quanti ragazzi cioè gli sto facendo un devasto totale guarda la quanti no quanti siete cioè sono un botto ma perché ma perché stanno diventando troppi vai così bravo vai così ok boom scelgo te in ritardo una pianta cavolo una pianta beh ragazzi ormai non ci arrivano neanche qua non ci arrivano non ci arrivano mai sto riempiendo io più io che loro loro fanno solo le comparse eccoli eccoli che arrivano e tutti morti boom dai così così e ragazzi è così la vita si vince si perde e voi perdete cos'è cos'è vediamo no non ci credo ragazzi siamo arrivati alla notte siamo arrivati alla notte sì siamo arrivati alla notte finalmente finalmente siamo arrivati alla notte lasciamo guardare ragazzi incredibile siamo arrivati alla notte E Tra l'altro hanno aggiunto Anche gli achievements E io ne ho fatti due Cioè no Spiegatemi Comunque ragazzi Abbiamo raggiunto Il secondo mondo in 5 puntate Per lasciarselo stare Va bene ragazzi Se il video è per Se il video vi è piaciuto lasciate un commento Mi piace qua sotto nella pagina di Facebook E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti